ecco qua i miei bimbi 1 2 3 oggi non guido io è il cavale può essere poi l'acqua stiamo andando alle cascate speriamo che ci sia un po di acqua oggi ci siamo tutti c'è anche jake abbiamo i marsciuti i zaini super attrezzati per questa camminata tortuosa che bel boschetto sì sì bello fresco finalmente un po di freschino mi piace farla all'aria aperta abbiamo trovato una casetta di biancaneve mi ha detto aurora che questa qua è quella dei sette nani no è di biancaneve biancaneve di chi è quella casetta la mamma sta facendo il ballo del pinguino la mamma sta facendo il biancaneve di chi è la mamma sta facendo il biancaneve di chi è la mamma sta facendo il biancaneve di chi è la mamma sta facendo il biancaneve di chi è la mamma sta facendo il biancaneve di chi è si chiamano cascate di gaina credo e niente praticamente mi sono portato anche il fardello e abbiamo dovuto rinunciare penso un po perché non ce la facevamo più mi piace fare le camminate in montagna me lo dovrei portare dietro più spesso e così passo la zavorra ah ci stai faccio fare allenamento alla qua e su e giù e su e giù e alla viviana che anche lei può rinunciare a fare push abbiamo anche per lei qualcuno da dare la prossima la fate abbiamo il 31 26 29 24 27 23 ma e 22 perché qua danni i numeri 25 b tu ci abiteresti qua la valle non ci abiterebbe pensi già al dolce quindi siamo venuti a fare una gita siamo venuti a fare la gita alle cascate che non siamo riusciti ad arrivare però alla fine siamo venuti per mangiare in questo posto che è la trattoria la gaina mi pare si chiami trattoria ragazzi si mangia bene tutto cotto in casa pasta cotta in casa che vale la pena guarda qua che roba guarda qua faccio guarda qua Grazie.